Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città. Un caro saluto a tutti da Fabio Moresco e benvenuti ad un'altra puntata di Buon compleanno Venezia. Iniziamo la puntata ricordando il santo del giorno, 7 dicembre. Secondo il calendario liturgico veneziano, oggi è il giorno di Sant'Ambroso, Sant'Ambrogio, Vescovo di Milano. Oggi avvenne, 7 dicembre 1562, muore Adrian Villert, compositore fiammingo tra i maggiori del Rinascimento. Dopo aver girato a lungo nell'Europa centrale ed in Italia, viene nominato maestro di cappella della Basilica di San Marco nel 1527. Famoso compositore e didatta, a lui si deve la pratica di usare il doppio coro per sfruttare le caratteristiche della Basilica di San Marco, ponendo così le basi che verranno sviluppate successivamente da Andrea e Giovanni Gabriele. Oggi vi racconto Adrian Villert, molti lo citano Villert, è tra i più noti edotti polifonisti del Cinquecento, fonde elementi stilistici fiamminghi e italiani, eccellente madrigalista, pratica la policoralità e i cori spezzati. Maestro di cappella San Marco, rinnova la scuola veneziana preparandola ai fasti dei Gabrielli e di Monteverdi. Ma già prima del compositore nativo di Bruges o Roselare, piccola città delle Fiandre occidentali, un altro cantore oltremontano era stato nominato dai procuratori di San Marco alla guida della cappella di San Marco e spesso anche un po' dimenticato, tale Petrus de Fossis, e prima ancora nel Quattrocento altri franco fiamminghi avevano diretto e concertato nelle più prestigiose cappelle musicali delle corti italiane. Il nostro personaggio, Adrian Villert, nacque attorno al 1490 e le poche informazioni a noi note riguardo alla sua formazione musicale e alla sua prima maturità, provengono dagli scritti di Giuseppo Zarlino, che è stato suo allievo, il quale riporta che Villert studiò a Parigi con Jean Nouton, un discepolo di Joaquin Desprez, membro della cappella reale sotto Luigi XII e Francesco I. Alcuni documenti sembrano attestare la presenza di Villert a Roma tra il 1514 e il 1515, dove i suoi lavori iniziarono a circolare. Il suo primo ingaggio, a noi noto, fu quello di cantore al servizio del cardinale Ippolito I d'Este a Ferrara, una corte che intratteneva stretti legami con la cappella reale francese. Villert iniziò a prestare servizio nell'estate del 1515 e nel 1517 seguì Ippolito in Ungheria, dove quest'ultimo era stato nominato arcivescovo di Estergom. Durante la permanenza in Ungheria, ed è probabile che Villert abbia visitato anche altre regioni, fu forse presente al matrimonio di Zygmunt Jagiello con Buona Sforza, svoltosi a Cracovia nel 1518. Il musicista fu poi di ritorno a Ferrara nel 1519, dove, dopo la morte di Ippolito avvenuta nel settembre del 1520, passò al servizio del Duca Alfonso. La Casa d'Este svolse un ruolo determinante nella carriera italiana di Villert e gli permise di stabilire contatti in tutta Europa. Oltre agli Este, il compositore potrebbe aver avuto rapporti anche con la famiglia Sforza e con gli ambienti romani e papali. Il 12 dicembre del 1527 i procuratori di San Marco, a Venezia, nominarono Villert, maestro di cappella, incarico che terrà per tutti gli ultimi 35 anni della sua vita, probabilmente grazie all'intervento del doge Andrea Gritti, il quale aveva trascorso un periodo di prigionia presso la corte di Francia. A Venezia, Villert trovò una cappella formata da almeno 16 cantori adulti comparabile ai migliori cori europei. I suoi obblighi prevedevano anche lo svolgimento dell'attività didattica, sia per i cantori che per i compositori, un ambito nel quale l'influenza di Villert sull'ambiente musicale veneziano fu determinante. Tra i suoi allievi si annoverano alcuni dei più importanti compositori attivi in Italia, attorno alla metà del Cinquecento. Ricordiamone qualcuno, Cipriano Deror, Nicola Vicentino, Costanzo Porta e molti altri. Il suo modello rimase un punto di riferimento fino al Seicento e si è stese ben oltre la città di Venezia. Gli unici viaggi documentati di Villert durante il suo servizio a San Marco risalgono al 1542 e al 1556, quando ebbe il permesso di recarsi nelle fiandre per affari personali. Negli ultimi anni della sua vita fu afflitto da problemi di salute, in particolare a causa della gotta, la quale a trattilo impossibilitava di uscire di casa. Sposato ma senza figli. Nel testamento lasciò i propri averi alla moglie Susanna e al nipote Alvise, anche lui cantore della cappella di San Marco. La produzione di Villert è ampia e consistente e comprende una decina di messe e numerosi inni, salmi, mottetti, chansons, madrigali e canzoni villanesche alla napolitana, oltre a qualche ricercare strumentale, ma nonostante la fama e il prestigio di cui ha goduto in vita, nei programmi dei concerti e delle edizioni discografiche di musica antica odierne, il suo nome non compare con la stessa frequenza di quella degli altri musicisti oltremontani. Villert morì a Venezia e a lui abbiamo voluto dedicare la nostra puntata odierna dell'Almanacco di Venezia il 7 dicembre del 1562. Si conclude qui la nostra puntata, ma prima di lasciarvi con il proverbio del giorno, vi ricordo che se vi è piaciuta la trasmissione lasciate un vostro mi piace ed iscrivetevi al canale YouTube Venezia Classic presenta Almanacco di Venezia. Il proverbio del giorno Buon compleanno Venezia, un podcast dedicato a fatti e personaggi che hanno fatto la storia di una grande città.